Giornata opaca, forse tendente al sereno o all'innamorato. Voglio recensire per voi, video recensire. Presto una mia recensione scritta online, per dare un view cinema. Ho apportato un paio di correzioni, c'erano dei rifusi. Bene, voi come siete combinati dopo questa quarantena non ancora terminata? Sballate, gasate, completamente fusi. Ok, i fusibili. Fusilli? Cosa avete mangiato per pranzo? Ok, so che io spesso posso apparire antipatico, poco empatico, poco armonico, ma sono un uomo flottico, che vive di sue nostalgie, di sue maliconi, ma anche di vive euforie e di sane pazzie. Allora, Stardust di Matthew Vaughn, sta ancora con Claudia Schiffer, la modella più ricercata degli anni 90, o del finire degli anni 80, degli 80's, David Copperfield, un mago, da non confondere con l'omonimo protagonista di un celebrareo romanzo di Charles Dickens che voi non avete letto. Io lessi anche Oliver Twist e vidi la versione non propriamente esaltante di Roman Polanski, forse uno dei suoi film meno usciti, se così si possa dire. Voi siete usciti oggi? Ok, ieri, in maniera piuttosto riguardosa, parlai male, del trono di spade. Città e Stephen King, i suoi libri magici, i cuori in Atlantide e anche questo film, no, questo libro, da cui credo non sia mai stato tratto un film strano per Stephen King, la bambina che amava Tom Gordon. Voglio parlarvi di un film fantasy, questo Stardust, la vediamo qui, e non di un cinecomico, e che non è un cinecomico così come non lo è Joker, vero? Scusate. Questa è la borsetta di Mary Poppins, vero? Ma cosa contiene? Chissà, forse degli assorbenti, la borsetta di mia madre? Non so, vediamo un po' che c'è qui. Cosa mi ha regalato Babbo Natale? Vediamo, anche se siamo ancora a metà maggio, in portavanti con i regali, voglio regalare voi questa mia video recensione, e chissà, questo libro è migliore della serie originale HBO. Non è male, la guerra sta arrivando, cinque re, un solo trono. Anche qui in Stardust c'è un re. non è male questo libro, però, eh, di George, George Cluny, no, George Martin, vabbè, ma George Cluny, una pubblicità del Martini, dai, molti sostengono che abbia una voce anche quasi come pannofino, vabbè, dai, i pannolini, no, non contiene i pannolini questa, questa borsetta. sono un uomo che ama andare in macchina. Non ti confondono, Cristi, la macchina infernale, con un altro film, e soprattutto con questo. Book, 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 8. Un'avventura oltre i confini della realtà, così come lo è Stardust, Stardust. E poi citerò proprio, perché questa borsetta è stata fatta male, non si riesce a estrarre nulla. Ecco, vi citerò un altro film, uno dei migliori film di Marty Scorsese, tralasciando The Erishman, che è di una categoria a parte, superiore. E diciamo che l'ultimo grande film di Marty Scorsese, a mio avviso, è al di là della vita, al di là dei sogni, no, al di là della vita. Non è il film con Robbie Williams, con Nicolas Cage. E poi tutti i film con Leonardo DiCaprio, non me ne voglio, il buon Leonardino, che presto girerà un film con Robert De Niro, presente in Stardust, The Killers of the Flower Moon, quarantene Covid-19 permettendo. Ecco, allora, l'ultimo grande film è quello. Poi gli altri sono un po' sopravvalutati, compreso forse Silence, scusate, devo aggiustare la mia testa, forse le vostre, che non compresero e stroncarono impietosamente la trasposizione cinematografica di Marty Scorsese, tratta da questo graphic novel molto particolare, un libro illustrato, metà strada per l'appunto fra romanzo e cinema, il primo libro in cui le parole illustrano le immagini, che è La straordinaria invenzione di Hugo Cabret. Libro molto bello, che vi consiglio. Ci sono delle illustrazioni molto molto particolari, ecco, e ci sono delle persone molto particolari, come me, un essere fantasioso. La storia che sto per svelarvi inizia nel 1931, sotto i tetti di Parigi, qui incontrerete un ragazzo di nome Hugo Cabret, che un giorno, quella capretta, a me dissero, è orfano di madre, un aborto, che un giorno, tanto tempo fa, scoprì un misterioso disegno che cambiò la sua vita per sempre. Ma prima che voltiate pagina, prima che io svoltai, allontanandomi, ecco, queste persone che, ecco, voglio che immaginiate voi stessi seduti nel buio, come all'inizio di un film. Sullo schermo sorgerà il sole, fra pochi istanti la macchina da presa, la MDP, inquadrerà una stazione, no, inquadro me stesso, nel cuore della città, in un atrio pieno di gente, vedrete finalmente un ragazzo che si muove rapidamente. Seguitelo, perché quello è Hugo Cabret. La sua mente è piena di segreti e sta aspettando che la sua storia abbia inizio. Ecco, io aspettai tutta la vita, la luna, le luci di una città, una stazione affollata, due occhi spaventati. Vabbè, comunque, torniamo a parlarvi di Stardust, qui metteremo a posto dopo. Ecco, spostiamoci nell'altra stanza, ok? Casino. E parliamo di, di Stardust, Polvere di stelle, in una manciata di secondi il falò si rilluminò. Ok, adesso con voce meno impostata, meno artefatta, meno enigmatica, più suave, forse delicata, è il falò. Ecco, questa è la mia recensione, scritta e word, che credo sabato apparirà. Apparirà. Come per magia, un film magico, questo Stardust? Ebbene, oggi video, recensiamo Stardust, sublime fantasy altamente romantico e sotto ogni punto di vista anche aromatico, no? Strepitosamente fantastico. Un fantasy è sinonimo di fantastico, no? E di falotico? Non lo so. Falotico? Un essere bizzarro, cercate. Nel vocabolario tre cane adesso online potete trovare tutto. I sinonimi di falotico, la parola che esiste, vedete, la usò Eugenio Montale, il falotico mutar della vita. Eh sì, vedete, si volta pagina, si va avanti. E non si rimane anche inosati, in pregiudizi, ecco i moralismi, imprevenzioni e tutto. Ecco, falotico sinonimo di, i sinonimi di falotico sono un uomo comunque unico e inimitabile, incomparabile, oserei dire insuperabile, sono stravagante, bizzarro, lunatico, insomma, ecco, lunare forse, o ancora solare, come questo film che ci illumina di menso e di suavità. Allora, una miscela ottimamente congegnata che vola, che vola, ecco, una notifica, che vola intrepidamente alata sulle cadenze avventurose di una sognante levità mirabolante deliziosa. Seconda inaspettatamente stupefacente opera. Seconda inaspettata. Inaspettatamente stupefacente, va bene. Opera di Matthew Vau, regista di Kickass, X-Men l'inizio e il nuovo X-Men, la conclusione, chissà, e Kingsman, i due Kingsman, vedete, X-Men, Kingsman. Qui, al suo esordio hollywoodiano, che poi comunque c'è, è una coproduzione comunque con, ecco, per la, per la, la Brexit, no, per la Paramount Pictures, dopo l'apprezzato dei Pusher, Pusher, con Daniel Craig. Daniel Craig, my name is Bond, James Bond, my name is Bep, Giuseppe, my name is Falotk, Falotk, Stefan Falotk. Allora, io non faccio l'ottico. Stardust uscì sui nostri schermi nell'ottobre del 2007, 2007, 2007, ma soltanto quest'anno è finalmente disponibile in una pregiata italiana edizione in Blu-ray, che presto acquisterò, dopo aver rivisto questo film, che molto apprezzai e sempre apprezzerò, venererò, contenente esclusivi contenuti speciali per collezionisti di razza, immancabili, collezionisti di razza, quindi cinefili, non cinofili, sono altre razze canine, i canini, ecco, immancabili, affezionati o affissionato della alla settimarte più delicatamente sofisticata. Liberamente adattato all'omonima novella illustrata di Neil Gaiman, che è il mio cugino esperto di fumetti, lui che abito a Prato, adesso convive a Siena con una sua donna, chissà, una donna misteriosa, e apri anche un sito, Loki, Loki, ispirato dal personaggio di Tom, ecco, esatto, lui, di Thor, eccetera, eccetera, mi regalò questo libro, chissà, dove, fra tutte queste cianfrusaglie, dove sarà andata a finire, ho rinvenuto, diciamo, io, me stesso, dopo essere svenuto, chissà, decaduto, come Peter O'Toole, come il re in questo film, ecco, allora andiamo avanti, non lo trovo questo libro, devo, scarto bellare, 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 no, basta, basta spellarmi, di Neil Gaiman, da parte lo stesso Bo, e Jane Goleman, non Jane Campion, Jane Goleman, Stardust dura due ore e sette minuti, minuto più, minuto meno, e fu un essere minuto, o forse sempre sminuito, e adesso mi sono ingigantito, eh sì, un'altra favola che vi consiglio, è i viaggi di Gulliver, altrimenti, eh sì, una favola metaforica, il Gulliver, arancia meccanica, altrimenti poi si viene schiacciato da personaggi che si credono giganti, invece sono nonani, e dicono a te, ma tu non solo sei un nano, sei anche un nonanista, sei un pervertito, sì sì sì, questi sono invertiti proprio, abbiamo proprio invertito le verità, insomma, i genius pop come me, ecco, invece i cretini, ecco, allora, ricevete una buona accoglienza da parte di critica e pubblico, su Rotten Tomatoes, cioè sui pomodori verdi fritti alla fermata del treno, no, i pomodori che dovrei spiaccicare, ecco, sul naso di questi bugiardi, allora, per esempio, famoso sito aggregatore di media recensoria, tutt'oggi può vantare il 76%, il 76% di critiche estremamente lusingiere, ok? Io vedi questo film e ne fu lusingato, così come fu lusingata, l'amata, ecco, nel protagonista, allora, stando agli standard attuali, Stardust non costò neanche tanto, e quando si dice, quel film però è una cifra salita alle stelle, no, non costò neanche tanto, vale a dire, soltanto 70 milioni di dollari, sì, soltanto, tra virgolette, perché si tratta di una cifra relativamente esangue, no, esigua, e non certamente astronomica, se paragonata, comunque l'astronomia c'entra, Stardust, scusi, se paragonata a film di questo tipo, ripetiamo, tuttora in voga. Gli incassi, inoltre, sebbene non esaltanti, ricoprirono ampiamente le spese, Stardust per molte settimane, primeggio al box office in Inghilterra e in Irlanda, bacennato brevemente alla Brexit, chissà quanto incassò in termini monetari di euro, e adesso, vabbè, in Irlanda, piazzandosi in vetta come imbattibile campione del botteghino britannico. Altrove, invece, riscosse assai meno successo. Allora, fu un campione del botteghino, da noi, ecco, addirittura da noi fu per lo più ampiamente snobbato e non poco trascurato perfino dall'intelligenza critica, ok? E che in primis fu lo dato da Paolo Merighetti, comunque, tornerei al botteghino, sì, alcuni film non hanno successo al botteghino, però, diciamo, molte donne, dette botane, aprono, ecco, la bottega e hanno successo, ma hanno anche sesso, un sesso però, diciamo così, corrotto, eh, sì. Invece, dobbiamo tornare alla purezza, all'innocenza, alla splenda nitidezza dei sogni di noi che voliamo, nell'ebbrezza, o forse anche nell'ebbrezza con due B, ok? La B di Buon Film. Allora, l'unica a rimanere ben impressionato fu Paolo Merighetti, che nel suo celeberrimo dizionario dei film lo definì una straordinaria cavalcata sulle ali dell'immaginazione, trovate anche questo estratto nel retro, nella back cover di Stardust. Come faccio a saperlo se non ce l'ho? Perché presto l'acquisterò e ho già visionato tutto. Mentre nel suo editoriale del Corriere della Sera scrisse tessualmente quanto segue. Seguitemi bene. C'è ancora un pubblico disposto a dar credito a un film di questo tipo? Istintivamente direi di no. Per troppo tempo l'industria cinematografica, con Hollywood in testa, ha appiattito l'immaginario giovanile dentro a schemi previsti e prevedibili, dove la fantasia era una specie di optional da dimenticare. Meglio investire in costosissimi effetti speciali o moltiplicare all'infinito la velocità del montaggio piuttosto che sforzarsi di coltivare l'immaginazione e la libertà creativa. La libertà. Mai punire le libertà in modo soprattutto arbitrario, chiaro? O di troppa computer graphics, dei deliri altrui che poi ti appioppano, diciamo, un sembiante che non fa parte della tua simbiosi e quindi, insomma, diventi poi un altro, come si chiama, quello del simbiondo, mi sembra che quello non è simpatico. Allora, con il risultato che oggi buona parte del pubblico è più reattiva a certi cast altisonanti e a certi effetti destabilizzati. A proposito di cast, qui c'è un parto di re, di violenza, adrenalina e sangue soprattutto che ha le sollecitazioni della creatività, come invece la strada che cerca di percorrere. Stardust. Resta solo la speranza che tra film popcorn e fiction televisive il fanciullino che ognuno si porta dentro non sia ancora del tutto anestetizzato. Parole assolutamente condivisibili. Mie Pargoletti, oh, Giosuè Cartucci, sì sì, poiché Stardust, oh, miei Ebetucci, è un grande film, sì. Così come d'altronde lo è, il poc'anzi citato, Hugo Capretti, discorsese, vero Capretti? E se i cosiddetti adulti, questi uomini cresciuti, con la panza piena, il cervello sempre più vuoto e anche qualcos'altro sempre più svuotato, perché questi vanno, non vanno più a vedere film da botteghino, ma vanno, ecco, in la bottega, della bottega. E se i cosiddetti adulti, probabilmente malcresciuti e disidratati, appunto spompati, ecco, per colpa del piattume delle loro grigie vite, metodicamente, quotidianamente, competitivamente ripetitive, asfissianti, vedete che casino che fanno questi sopra, morbose, noiosa, non vorranno apprezzarlo, sicuramente rigetteranno, così facendo la loro anima più gustosamente fantasiosa, onirica e fantasiosa, avendo capziosamente abdicato a stili e dettami di vita, falsamente morigerate, dunque miserrimi o miserabili, dicono a me, tapino, poverino, paperino, ma basta, paperino è bellissimo, anche tuvolino, queste favole, no? Terribilmente sganciate al purissimo, vivido, lucente sogno, innervato, innervato e non più nervoso, sì, sì, sono adesso un uomo caloroso, di dolce, pugnace e venustà, fulgida e cristallinamente roboante, questo film solare, no? Che incita a nuove purezze esistenziali, a nuove aurore profumate, flautate, in cuore respirate. Il cinema infatti è sogno e poesia è in immagini, se dimentichiamo questo semplicissimo assunto, poi ci sarà il riassunto della trama, automaticamente disconosciamo noi stessi, ripudiando la nostra arcana anima, perché ciò che ci distingue dalle scime e dagli scemi è proprio l'elevazione poetica, il sognare, anche quando forse la vita non è più solare, è chiaro? E si è adombrata come quella di Hugo Caprelli, triste e solitario, nella stazione, eh no? Però non canta con, dire, binario, la mia vita, per me è finita, no, 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 bisogna sempre ripartire e se si perde un treno si può prendere l'aereo, quindi volare alti, ecco. Come questo film, la nostra arcana, i cani, anima ardimentosamente squillante, spegnendola nell'irnaridimento, nel più bieco, cinismo deprimente, oh, quanto scontento. Questa gente che si finge felice, si contenta, invece, oh, no, 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 oh, quanti tormenti, anche se forse non siamo più né bambini né adolescenti, reconditamente le nostre profondità primigenie, ancora non del tutto oscuratesi, glissatesi, nel vacuo borghese in tristimento, è necessario che disseppelliamo, innalziamo coraggiamente gli stupendi, e non più eleviamo gli stupiti, gli stupendi liberi sogni colorati, commovendoci nuovamente innanzi alla beltà serena di stellati firmamenti e di arcobaleni magicamente pigmentati di dolce romantica, battesimale armonia luccicante. Trama, dopo questo assunto, il riassunto della trama. Qual è il sunto? Allora, comunque io dovrei essere assunto in un posto migliore, perché sì, è bello sognare essere innamorati, però anche, diciamo, la parte remunerativa non fa mai male, perché poi, se no, se poi si perde l'amore, ti dicono che quello non sa più amare, forse non ne offrono le possibilità, le potenzialità, lì ci sono tutte, però, allora, nell'Inghilterra del 1800, e che siamo appunto nell'Ottocento, quando si dice, e ancora siamo fermi a una mentalità retrograda, oppure retriva, conformista, è ottocentesco, allora, dobbiamo essere nobili come nell'Ottocento, però, ecco, per essere nobili ci vogliamo anche i soldi. Allora, l'Inghilterra del 1800 c'è in piena epoca vittoriana, vittoriana, sì, sì, poi c'è una, abita Tristan, quest'uomo forse triste, Charlie Cox, modesto garzone, figlio di un uomo, Dunstan Thorne, Ben Barnes, da giovane, Natalie Parker, da adulto, c'è De Niro in questo film, Dunstan Thorne, vi consiglio un bellissimo libro, di Tonto Wilder, The Bridge of San Luis Rey, da cui non uscì una grossissima trasposizione cinematografica, il punto di San di San Luis Rey, Robert De Niro, un grande cast di Alvaro Keitel, non è Taxi Driver, non di Harry Ashman, e a proposito di Stephen King, Misery, Misery, non deve morire, c'è anche Katie Bates. Allora, il quale fu l'unico che impavidamente riuscì a entrare a Stonehold, non a Stonehenge, è chiaro? Ecco, che lì, però, la questione del calendario, bisogna, sì, 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 chissà se rispunterà l'alba, da dove, da quale luce prospettica saremo nuovamente fulgorati, il colpo di fulmine, e quindi invocati, innamorati, infervorati, no, no, non più arrabbiati, no, 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 eludendo la sorveglianza di un saggio vegliardo, David Kelly, atto a presiederne il muro di cinta, basta, con le cinte e le cinture di castità. Ecco, Tristan, pur di conquistare la sua amata Victoria, io mi innamorai a 16 anni di una tizia, mi regalai sotto casa sua, sì, non Victoria, Vittoria, Vittoria, e si è innamorato pazzo, come Celentano, rimediare delle figure di merda, e risultai più che Celentano, più che, ecco, proprio un handicappato. Allora, Sienna Miller, Sienna Miller, che stette con, sì, quella si tratta bene, stette col Papa, sì, sì, di Ampok, conciutlo, così, promette a costa di regalarle una stella. Piccola stella senza cielo, ma Ligabue, quando ho composto questa canzone? Dopo aver visto questo film? Forse era, forse prima, no? Allora, forse in carne e ossa, Yvain, Yvain, non confondi con quel troione di Van Drago, che è quello, ecco, Yvain, Claire Danse, non era lei la coprotagonista, Sienna Leonardo DiCaprio, lui specializzato, prima i film romantici, tritane, di Romè e Giulietta e di Bats Lurman, ecco, dico che è lei. Allora, Yvain, Yvain, però è già promessa sposa all'avido alzimato, signorotto belloccio e mascalzone di nome Humphrey, non Humphrey Bogart, non un uomo così affascinante, ma l'incomico, però con picchi, ecco, di raffinatezza inaudita, ecco, no, Humphrey, Henry Cavill, Henry Cavill, vedete, in cinecomic, Superman, che questo non è Superman per niente, eh? Allora, malgrado ciò, Tristan si imbarcherà, sarà, quando si dice una vita tutta imbarcata, ecco, si imbarcherà con tanto di veliero volante, eh, lungo, eh, c'è una scena che può ricordare Titanic, loro, eh, a prua, col vento, eh, fra le pop, no, di Claire Danse, no, lungo, eh, sono il re del mondo, lui diventa il re? Sì, spoiler, 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 lungo una landa pullulata da fattucchiere doppio giochiste e principi malvagi, incontrando, eh, c'è anche Mar, sì, sì, quello di Robin Hood, lo stronzone di Robin Hood, incontrando ambigui capitani di ciurme ridicolmente piratesche, sfidando perfino se stesso, pur di conquistare il cuore della sua bella. Che dire, Stardass è magia davantina, un film che riesuma il migliore cinema degli anni 80, dei fantasy avventurosi e inventivamente creativi, freggiandosi di un cast, come detto, a dir poco impressionante, ove, 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 hai già suscitati Cox, Miller, Danse, Kelly, Bolls, Cavill, questi ultimi due brevissimi cammei di lusso, diciamo Cavill un po' di più, rispetto a Ben Bolls, che proprio, però quello appare con una, con una, e poi, sì, sì, che è un'attrice bellissima, adesso ve la citerò, ecco, svettano le prove di una Michelle Pfeiffer, vedete, Catwoman, eh sì, sì, straordinaria immersione stregonesca, memore forse nella sua recitativa variazione sul tema della sua performance nelle Streget Eastwick, un memorabile e gigantesco Robert De Niro, sì, è uno dei migliori ruoli di Bob De Niro di quegli anni, nei farseschi esilaranti ed esuberanti, anzi, nelle farsesche esilaranti ed esuberanti vesti di Captain Shakespeare, un ghignante e perfido Mark Strong, lui, as, 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 as Principe Septimus, però questo Peter O'Toole è sette figli, otto figli, non so, Jason Fleming, Kate McGowan, non ho confondito, Rose McGowan, che quella non voleva un figlio, non voleva, e non fu aiutata, aveva essere, tenete a mente, è un'attrice che dovrebbe essere più sopravvalutata, più anche, secondo me, ecco, questa sì, è bellissima che è Kate McGowan, Rupert Everett, anche lui, dalla sessualità molto ambigua come, altro spoiler, come Bob De Niro in questo film, Ricky Gervais, insomma, l'attuale presentatore dei Golden Globe, e lui, Peter O'Toole, la piccolissima partecipazione del regista Dexter Fletcher, Bohemia Rhapsody è prodotto da Robert De Niro, sebbene non sia stato accreditato, regia di Brian Singer, sì, sì, i soliti sospetti, adesso sì, sì, e la voce narrante nell'edizione originale di Ian McKellen, lui interprete l'allievo di Shakespeare, eh, vedete, c'è il capito di Shakespeare, non ci poteva non essere Ian McKellen, scusi, eh, Riccardo Terzo, e poi, quant'altro, curiosità, Charlie Cox, come sappiamo, a me disse, ma quello è cieco, quello è Daredevil, no, no, io vedo meglio di voi la realtà, siete voi che siete ciechi, anche un po' qui picchiati, è diventato Daredevil, nell'omani serie tv targata Netflix, mentre Ben Bars è stato il villain cattivo billirusso nel gemellare, il gemellare The Punisher, Punisher con John Burton. Ben Bars recitò, sì, ma anche a Bob De Niro in un ruolo maggiore, un film però molto più brutto che The Big Wedding, da regista, che poi dall'ora in poi scompare, di Non è mai troppo tardi con Jack Nichols e Morgan Freeman, Michelle Pfeiffer, ecco, Michelle Pfeiffer, regitò, con Robert De Niro in questo film? No, in realtà c'è lei, ma non si incontra mai come non si incontra in Capodanno a New York, New Year's, di Gary Marshall, specializzato in commedie romantiche, questo è un fantasy romantico superiore a tutte quelle puttanate pretty woman, eccetera, 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 e miei bugiardi, mi tengo d'occhio, watching you, e regitò invece con Robert De Niro fianco a fianco in Wizard of Lies nei panni della disgraziata moglie del tuffatore, uno dei più grandi tuffatori della storia, come queste persone che vogliono tuffare, vogliono tuffare e vollero, vollero che, ecco, nel culo stanno tuffarmi, ma mi stuffarò, basta. Wizard of Lies, il mago delle bugie, Bernie Bernard Madoff, e poi vediamo un po', Ben Bars, a me dissero, eh, tu sei già un vecchio nel corpo di un giovane, ma semplicemente ho la mia età e devo arrangiarmi come meglio si può, quindi Ben Bars, cattivissimo, grande stronzo, in The Punisher viene punito, sì, l'ha fatta grossa questo pagliaccio, e viene punito, e fu Dorian Gray, in una brutta versione del famosissimo romanzo, diciamo così, di Oscar Wilde, no, no, Thornton Wilde era un'altra cosa, Oscar Wilde, Dorian Gray, regita di Oliver Parker, che se non sbaglio fu lui a dirigere Otello, sempre tratto da Shakespeare, con Kenneth Branagh, lì, nella parte di Iago, e vedete questo, Ben Bars, Billy Russo, è un po' uno, è un po' un invidioso, di The Punisher, è molto forte, quello spacca tutto, e Dorian Gray, Dorian Gray, poi ci sono le malafemmine, sì, sì, l'attrice, la bionda di Totò Peppino e la malafemmine, si chiama Dorian Gray, era italianissima, sì, sì, così, le dico che è così, è aperto la parente, chiudi la parente, abbondantis abbondantum, abbondiamo, io ho questo stile ridondante, mi dicono di tagliare, di essere più giornalissima, e voglio esagerare, voglio essere pindarico, sì, i miei voli pindarici, ecco, essere così, è chiaro? E se non vi piaccio, vaffanculo amato, ah, Stardust, ah, però qui è un brutto tempo, è molto, è molto brutto, Ben Burns, assomiglio un po' a Ben Burns, forse a Charlie Cox, questo puro, che nonostante, un puro però, si dava qualche volta agli atti impuri, vabbè, ma lì ci può stare, ci può stare, e le, sono quelle che non ci stavano mai, allora lì, si intristì, questo Tristan, e poi, di nuovo, si incupì, si languidì, si dilinquì nella malinconia, e gli diterò pure la paterna, ma quello è un criminale, è un criminale, è un criminale, gli altri criminali, che dissero sempre, lo guardavano, che tristezza, che tristezza, e invece, sono dei tristi loro, a Bologna si dice, quando uno non sa fare un cazzo, è una schiappa, è un tristo, neanche triste, è tristo proprio, io non sono tristo, non sono neanche triste, non sono neanche triste, non sono neanche Charlie Cox e non sono Ben Mars, io sono io, tu sei tu, e così, Stardust, un film meraviglioso, fantastico, superbo, un fantasy, ripeto, sfizioso, delizioso, squisito, sognante, forse un po' come me, qualche volta delirante, pur sempre, pimpante, soprattutto pompante, altro che pompante, il falò, il falò, nell'oscurità delle vanità, tutto, grande film questo Stardust, guardatelo, per sognare, le stelle, ma come parla quello lì, arabo? Sì, la stella di Babilonia, i babilonesi, la torre di Babele, come da The End, e vissero tutti quanti felici e contenti, non tutto il male viene per nuocere, l'importante è che tutto finisca bene, forse come Carmelo, non lo so. E alla fine Bob De Niro, guarda Henry Cavill, dopo aver dato un consiglio a Charlie Cox, lo guarda, lui, Superman, però, deve conquistare la sua bella, così come fece Charlie Cox, con Claire Dance, Dance, lo guarda così, così, ve la rifaccio, ve lo rifaccio lo sguardo di Bob De Niro. Stardust, un grande film, se non lo apprezzate, significa che siete già andati ricoglioniti e siete da buttare qui, giù, giù, buttatevi e suicidate, basta, è un grande film, quanto gli assegniamo? Tre stellette, ovvio, tre stellette, non il massimo delle stellette, nonostante sia Stardust, ecco, ecco, una manciata di stelle.